Ciao amici Mister Gadget, benvenuti, oggi vi presento una novità molto interessante in arrivo proprio in questi giorni sul mercato, Moto G6 Plus Non troveremo mai una decisione su come pronunciare questo plus, se nel modo originale in latino oppure all'americana Noi in questo caso usiamo dunque il termine in versione anglosassone Apriamo la confezione molto carina, molto colorata, molto divertente di Moto G6 Plus Questa è l'influenza del Brasile dove questo prodotto è stato presentato e troviamo il telefono Vi mostro subito una cosa, quando voi estraete il telefono dalla confezione lo trovate già con la dotazione di una cover in silicone Lo guardiamo dopo, solleviamo la confezione e la scatola per vedere quello che c'è sotto Ovvero intanto le istruzioni con il peripacchiono per l'apertura del cassettino della sim Vi faccio notare anche una cosa, non so se lo noterete Questo piripacchiolo è lunghissimo, è enorme perché lo è anche il cassettino con cui potete utilizzare contemporaneamente due sim e una micro SD Caricatore con il cosiddetto Turbo Power che in due ore vi permette di andare da 0 al 100% nella batteria del telefono E poi il cavo per ricarica dati, per il trasminimento dati o ricarica con connettore USB Type-C Diamo un occhio da vicino al telefono cercando di vincere un problema, l'unico se volete estetico di questo smartphone Cioè la propensione ad attirare tantissimo le dittate Questo purtroppo dipende dal fatto che c'è il vetro anche nella parte posteriore Bellissimo, l'unica cosa è che onestamente la cover ci sta bene anche per il fatto di eliminare il fatto che possa essere una calamita per le dittate Sulla parte posteriore quello che arriva subito all'occhio è questo che ormai sta diventando un segno distintivo per Motorola Cioè il sensore fotografico che vedete sporge abbastanza ma non è fastidioso perché non è tagliente Perché il dettaglio è una specie di taglio a diamante in questa posizione per cui essenzialmente non è fastidioso Mentre nella parte frontale il display con la ratio 18-9 Il sensore delle impronte digitali nella parte inferiore con il logo Motorola Quello che è l'auricolare ma che è anche l'altoparlante per l'ascolto della musica E poi nella parte invece inferiore ci sono il connettore USB Type-C E poi il connettore da 3,5 mm quello per le cuffie Un telefono tra l'altro con dimensioni molto contenute e un peso intorno ai 167 grammi Con un lato pulitissimo l'altro invece in cui ha sempre pulito molto elegante Con la presenza di pussante di accensione e del controllo del volume che sapete per noi di Mr. Gadget Si chiama e si chiamerà sempre Volume Rocker Com'è dunque il telefono? Diamo un occhio al display IPS LCD da 5,9 pollici La proporzione tra schermo e superficie totale del 74,4% Non elevatissimo ma perché mettere il sensore delle impronte digitali è imposto purtroppo anche qualche compromesso L'audio come detto viene messo nella parte anteriore proprio della capsula dove si ascoltano anche le telefonate C'è poi il sensore fotografico da 8 megapixel di cui poi vi mostrerò alcune caratteristiche Sulla parte posteriore come detto due sensori 12 e 5 megapixel Quello da 5 megapixel è il sensore che serve essenzialmente per misurare la profondità Vi ricordo che l'apertura del sensore da 12 megapixel è 1.7 Vedete, ottime le foto quando c'è molta luce, si portano a casa quando ce n'è poca Diciamo che forse non c'è tantissima costanza Cioè alcuni scatti con il buio saranno bellissimi, altri magari con un po' di difficoltà Ma sulla fotocamera io vorrei soffermarmi qualche secondo per mostrarvi una cosa importante Vi mostro infatti il menu Allora, vedete, qui c'è ad esempio la modalità colore campione Vi faccio vedere anche come funziona Quando essenzialmente voi state inquadrando qualcosa con la fotocamera Se scegliete la modalità colore campione Toccate il colore che volete campionare E da lì in avanti tutto il resto sarà fotografato in bianco e nero Questa è una delle tante modalità che avete a disposizione nella fotocamera Poi in realtà avete anche la modalità ritratto Quindi utilizzando la profondità nel soggetto La modalità ritaglio Anche questa molto interessante La modalità ritaglio vi permette essenzialmente di scattare la foto di un soggetto E poi di cambiare lo sfondo Il colore campione l'abbiamo visto La modalità panoramica Lo scanner di testo E anche poi i filtri per il volto Che vuol dire che potete applicare un sacco di cosine carine alle foto che scattate In quanto a maschere e effetti scenografici Avete poi il rallentatore Quindi lo slow motion Avete timelapse E anche i filtri volto Quando girate i video che vengono applicati in tempo reale Se volete insomma scegliere la modalità di scatto Vedete è fatto uno swipe in questa direzione Se volete invece un controllo totale manuale Vedete avete questa opzione nella parte posteriore Che attiva tutti i controlli tipici della fotocamera Quando c'è proprio uno scatto di tipo quasi professionale Altro elemento importante Allora C'era uno da sottolineare Quello del fatto che con un display 18.9 La dimensione del G6 Plus È simile a quello del G6 nella modalità normale E anche nella tipologia G6 Play Display dunque con una buona leggibilità Anche alla luce del sole E con un sistema di adattamento alla luminosità esterna Quindi il controllo automatico della luminosità Che devo dire funziona veramente molto bene Vedete come il software sia praticamente stock In Android Con solo alcune novità che vengono date Dalle funzioni Moto Key Cioè la possibilità di memorizzare le vostre password E di suggerirle Le Moto Action Quindi il fatto ad esempio che con il passaggio di tre dita sul display Facciate uno screenshot Il fatto che con un movimento tipo martello Si accenda la torcia Girando velocemente la fotocamera Quindi shakerandola Attivate la fotocamera E non solo con un movimento ad arco sul display Essenzialmente tracciate Spostate il telefono Lo fate diventare Diciamo con una modalità di utilizzo ad una mano E poi vedete il Moto Display Quello che una volta era l'Active Display E infine il Moto Voice Che nella versione italiana È ancora in beta Avrete forse visto un movimento Che ho appena fatto sul display Intanto c'è la possibilità Vedete premendo a lungo Il fatto di attivare l'assistente di Google Mentre premendo in questo modo Come avete visto Cioè premendo in pratica una volta sola Avete la possibilità di attivare il vostro schermo O di disattivarlo No vedete Io ho acceso Non ho registrato questa impronta Scusate Vedete comunque premendo a lungo Ho spento il display Lo riaccendo Mettendo semplicemente il dito Con un movimento Uno swipe verso destra Attivo Quelle che sono le applicazioni aperte Quindi le posso essenzialmente eliminare Mentre con uno swipe Verso sinistra Faccio il movimento Di tornare indietro Nel browser Ad esempio O comunque all'interno di un'applicazione Vedete con questo movimento Io torno indietro Già che ci siamo E già che siamo nella posizione del browser E del sito di Radio No.1 Sentiamo l'audio L'audio è molto alto Con una discreta Equalizzazione dell'audio Che tra l'altro potete fare anche grazie Al sistema Dolby Nel vostro telefono C'è un controllo Dolby In pratica dell'audio Che vi permette di scegliere Eccolo qui Qual è l'equalizzazione che volete Del vostro telefono E tra l'altro anche Un equalizzatore intelligente Che si comporta a seconda Del rumore Che capta Intorno a sé Devo dire che questo Potenzia Ulteriormente Il suono dell'altoparlante A volte però c'è il rischio Che porti quasi Ad una saturazione Il processore È veloce Potente Devo dire che funziona Veramente molto molto bene Vi ricordo che qui dentro C'è uno Snapdragon 630 Lo Snapdragon 630 È un prodotto di generazione Comunque recente Può essere abbinato A 4 o 6 giga di ram All'interno di questo telefono C'è anche la disponibilità Di memoria Da 64 o da 128 giga E come detto Potete mettere due sim Contemporaneamente Insieme Alla micro SD Il processore Snapdragon 630 Evidenzia un po' I suoi limiti Quando forse Voi volete fare qualcosa di più Voi volete fare qualcosa Di un po' importante Come ad esempio Editare un video Che potrebbe essere Una di queste opzioni Mentre quando si gioca Devo dire che risponde Abbastanza bene Per quanto riguarda La funzionalità Avete visto Un sensore di impronte digitali Frontale Dunque ricco Di tantissime funzioni L'app Dolby All'interno L'abbiamo detto La fotocamera Con una qualità Devo dire Più che buona Teniamo conto Che questo è un prodotto Da 299 euro Un display Con una ottima Leggibilità Un IPS LCD Dunque Di buon livello C'è il jack delle cuffie C'è il connettore USB Type-C Ecco Se devo trovare Una mancanza Non è Con una certificazione Non ha una certificazione IP67 IP68 Per acqua E polvere E se proprio Devo andare alla ricerca Di un difettone La fotocamera Forse La fotocamera Non è proprio così Veloce Nella memorizzazione Degli scatti Nella messa a fuoco Ecco Però Ciò detto Trovo che questo Moto G6 Plus Che arriva Con il Gorilla Glass Anche nella parte posteriore Che insomma Ha una cura Del dettaglio Veramente molto elevata E secondo me È un prodotto Veramente Molto 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 Interessante Ripeto 299 euro È un Rapporto Qualità Prezzo Veramente notevole A me piace A voi Re I I I Grazie a tutti.